Produzione Radiomeria, tutti i diritti sono riservati. Buonasera, questa sera parleremo del bollettino dell'Osservatorio Cardinal Vantua, l'ultimo numero, ossia della rivista trimestrale di Dottrina Sociale della Chiesa. Questa sera parleremo di economia, l'ultimo numero infatti si chiama l'economia in dieci parole chiave e lo faremo come solitamente con due illustri ospiti che hanno contribuito alla realizzazione di questo numero della rivista. Le dieci parole chiave che abbiamo trattato in questo numero della rivista sono il capitale e il lavoro, il debito, la finanza, il fisco, impresa familiare, mercato e stato, moneta, natalità, salario, usura. Ecco, io adesso passerei subito a presentare il nostro primo graditissimo ospite che abbiamo qui con noi, Don Roberto, ecco, gli chiedevo a Don Roberto la pronuncia esatta del cognome, se è Caria o Caria, ho un po' di difficoltà nella pronuncia. Caria, perfetto, ecco, Don Roberto Caria, docente di teologia morale presso la Facoltà Teologica della Sardegna e nostro collaboratore da tempo, ecco che ringraziamo, che ha trattato in questo numero, il tema dell'usura. Allora inizierei proprio, se ne sente parlare anche ai giorni nostri, se ne sentite parlare anche in passato, ecco, innanzitutto una chiarificazione sul termine usura, ecco, grazie. Sì, il termine usura dal latino usus, utor, quindi è il verbo, indica quello che può essere un uso distorto, in questo caso del denaro. Distorto significa non secondo la sua finalità naturale. Secondo natura, quindi usando questo linguaggio che appartiene alla teologia in riferimento al fatto che ogni peccato racchiude in sé soprattutto una deviazione da quanto Dio ha dato già alla natura come finalità impressa, oltre che nelle persone e anche nelle cose, e dunque l'usura vuole indicare un uso contro la natura del denaro. Cosa significa? Che per natura il denaro è uno strumento funzionale allo scambio. Non è il fine dello scambio, deve favorire lo scambio economico, il quale scambio economico, come ben sappiamo anch'esso, non è fine a se stesso, ma è finalizzato, è un momento, è un ambito di quelle relazioni umane tra gli uomini che hanno come finalità più alta lo scambio a livello spirituale. Quindi in sostanza lo scambio anche di beni materiali deve avere come radice, come finalità, come ispirazione, quello scambio che è all'origine della vita, cioè lo scambio gratuito, secondo il dono. Tutto è dono originato da Dio e gli uomini questo devono avere come modello. Ovviamente questo cosa significa? Che anche lo scambio economico deve essere sempre come un dono? Ovviamente no, ma deve avere come fonte di ispirazione quel raggiungimento di quello che già lo stesso Aristotele, prima ancora, quindi dei padri della Chiesa, prima ancora poi di Sant'Omaso che farà abbondante ricorso proprio alla filosofia aristotelica. Ecco, già in Aristotele viene detto che di per sé i legislatori nel legiferare devono avere come finalità creare quelle leggi che possano favorire tra i cittadini l'amicizia civica, cioè quella amicizia che origina dal rispetto della giustizia e dunque questo è il fine principale. Allora, ecco, per concludere questo primo intervento, l'usura richiama il fatto che si può fare un uso distorto del denaro quando non viene più rispettata questa finalità di strumento in funzione dello scambio, ma diventa fine a se stesso e allora si pensa di poter creare denaro dal denaro, adesso non entriamo nei meccanismi tecnici in cui questo può avvenire, ma come principio, cioè è tutto ciò che si vuole far creare come ricchezza economica non dal lavoro, non dalla produzione, bensì dall'uso del denaro in se stesso, come se il denaro potesse partorire altro denaro. Questo dicevano per esempio i greci quando usavano il termine, sì. Io scusa se ho… Ecco, Roberto, diciamo che il problema dell'usura è annoso, insomma, perché se pensiamo a questo già Catone l'antico, per dare un'idea, denunciava questi fenomeni, ecco appunto, ancora prima Aristotele, come ha detto lei, per non parlare poi nella letteratura, immagino anche Shiloh, con la figura di Shiloh, che non è il mercante di Veneto di Shakespeare, oppure l'utopia degli Iserai in un altro ecossaggio di Chesterton, e quindi è un problema nuovo, dalla storia di Tente in sostanza. Ecco, la Chiesa adesso, la Chiesa Cattolica, come si è posta dinanti a questo problema dell'usura? Quale atteggiamento ha assunto? Allora, ovviamente la Chiesa ha assunto sempre un atteggiamento di condanna dell'uso del denaro finalizzato appunto a creare una rendita indipendentemente dal lavoro. E questo unitariamente in tutte le epoche storiche in questi duemila anni la Chiesa è sempre stata coerente. Trovo spesso delle citazioni che dicono la Chiesa ha cambiato l'opinione da un punto di vista morale, come se la morale dipendesse dalle epoche storiche. Ovviamente ogni epoca storica, secondo i cambiamenti che suscita a livello di strutture economiche, di produzione, la finanza, insomma, suscita nuove domande morali. Ma a me pare, e non lo dico solo io, insomma, lo dicono persone più, molto più esperte di me, che è evidente che la Chiesa da questo punto di vista non ha mai cambiato la sua condanna dell'usura. Anzi, mi si è permesso di ricordare almeno come la stessa dottrina sociale contemporanea, perché la Chiesa ha sempre avuto un suo insegnamento sociale, perché ovviamente il Vangelo ha una ricaduta non solo sulla vita privata e sulla vita intima, ma sulla vita sociale, quindi su tutte le dimensioni della vita della persona. È Leone XIII, proprio in quella enciclica, la Verum Novarum, che noi consideriamo punto di partenza di un nuovo approccio che la dottrina sociale ha sui problemi economici e politici contemporanei, come allora la questione operaia, ma al numero due, le res nove, di cui fa rivedimento Leone XIII, riguardano proprio quella usura divoratrice, così la chiama, che, dice Leone XIII, condannata più volte dalla Chiesa nel corso dei secoli, continua ad essere praticata sotto altro colore, a causa di ingordi speculatori, vale a dire cambia il modo in cui viene organizzata la struttura, possiamo dire anche con le parole di San Giovanni Paolo II, di cui oggi abbiamo anche la memoria liturgica, che con parole di San Giovanni Paolo II possiamo dire che l'usura è diventata una struttura di peccato, vale a dire ha una sua organizzazione ormai, che è ovviamente presentata in modi con modalità differenti, ma credo che sia, insomma, indagando su come funziona tutto il sistema bancario e finanziario, credo che sia abbastanza facile scoprire come di per sé è diventata davvero una struttura che poi cambia colore, insomma diventa camaleontica nella sua organizzazione. Ecco, quindi mi pare di poter sintetizzare che la Chiesa da questo punto di vista ha sempre riconosciuto, contrario alla vera natura dell'economia, l'usura, perché l'usura si pone in alternativa a ciò che dovrebbe essere il vero fine, che è il lavoro. Certo, certo. Ecco, io ricordo anche un'enciclica proprio dedicata espressamente, direttamente al tema dell'usura, un'enciclica ancora prima di quella del 1891, dall'efficacia da rinnovare un divano decimitato, la VIX per veni, ecco, del 1745, anche lì si combannavano, di benedetto 14 l'usura. Ecco, mi parlava della centralità del lavoro e quindi non la centralità del denaro. Ecco, viviamo purtroppo in un assorbimento comunque dell'economia da parte della finanza. Ecco, e chiaramente in questo modo l'usura può giocare un ruolo ancora più imponente, diciamo. Ecco, se si può rimettere, come anche lo stesso Giovanni Paolo II, che ha fatto bene a ricordare la manaria oggi, la centralità del lavoro, ecco, in tante sue incidenti, ricordo la laboring execence, solo per citarne qualcuna di Giovanni Paolo II, ecco, poneva proprio il lavoro umano la centralità del lavoro. Ecco, se si può dire qualcosa in merito proprio su questa dimensione della centralità del lavoro dell'umanità, insomma, della persona. Sì. Credo che oggi in questo discorso verta molto sulla centralità che ha l'uomo anche nel progresso tecnico. Oggi siamo dentro una cultura che, come nella solicitù del Re Sociali, sul numero 36, lo stesso San Giovanni Paolo II denunciava, dentro una idolatria della tecnica e dunque poi anche della tecnologia. In sostanza oggi culturalmente è molto presente una sorta di positivismo scientifico che porta a idolatrare la scienza, ma non la scienza in se stessa, che ovviamente non deve essere idolatrata, ma ha una funzione importantissima e la Chiesa è sempre stata dalla parte della scienza. Ha creato scienza, ha favorito gli scienziati, quindi non c'è stata mai, se non da un punto di vista ideologico, una contrarietà da questo punto di vista. Però non possiamo negare che lo sviluppo tecnico e tecnologico in qualche modo è come se volesse scavalcare la centralità dell'uomo all'interno della produzione economica, del lavoro e dell'attività economica. Quindi la finanza appare come un progresso tecnologico altissimo perché oggi, diciamo che questo è un po' un difetto che origina dall'epoca moderna, l'idea che il meccanismo, il funzionamento automatico sia superiore o possa venire incontro alle fragilità dell'uomo dentro le sue relazioni, anche lavorative, anche tecniche. Ecco, gli strumenti sono sempre appunto dei mezzi che l'uomo può utilizzare. La stessa tecnologia, che ha un valore molto importante, ma è sempre uno strumento che non può sostituire l'uomo. Così come i procedimenti finanziari, bancari, sempre più automatizzati, sempre più dentro, ormai l'uso anche dell'intelligenza artificiale, che in se stessa è un progresso. Ma poi bisogna capire, come dice anche Papa Francesco, quale uso se ne fa del progresso. Se poi il progresso è uno strumento che favorisce pochi, tenendo invece lontani da questo progresso i più e soprattutto i più poveri e soprattutto quelli che non possono inserirsi dentro questo meccanismo. Ecco, allora la centralità del lavoro significa la centralità della persona che produce e che attraverso il lavoro si mette in relazione con gli altri, con le sue competenze, con le sue capacità. E questo non può essere sostituito da nessun meccanismo anonimo e neanche da un meccanismo che possa creare ricchezza, in qualche modo sfruttando il lavoro autrui e vivendo in vendita. Quindi addirittura la Chiesa nel corso del Medioevo, con i concili lateranensi del 1100 o 1200, è arrivata addirittura a proibire, oltre che l'Eucaristia, anche le esegui agli usurai notori, proprio perché causavano un danno sociale enorme. Perché poi l'usura, credo che molti possano ricordare anche la bella poesia di Ezra Pound, l'usura che sembra favorire la produzione in realtà diventa un esproprio di ricchezza dal lavoro del popolo, facendo aumentare la ricchezza di pochi. Ecco, sì, ho citato giustamente anche Ezra Pound, ho fatto bene a citarlo, in quanto nei canti pisani, ad esempio in una delle sue opere più famose, parlava proprio dell'enorme tragedia dell'uomo, ecco, mi ricordo questo passaggio interessantissimo, nelle spalle curve del contadino, in questo settore primario, però rimane sempre. Una cosa comunque da fare attenzione, che lei nel suo saggio ha ben trattato e che vorrei adesso parlarne, è comunque il ruolo della finanza, che si deve stare, non è che si privilegia l'economia, ma nello stesso tempo si può anche dotarsi di strumenti finanziari, pur che siano il servizio, come dicevamo, della persona, dell'uomo, della famiglia, ecco, e parla della crematistica, ecco, se vuole così spiegare ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta con questo termine che ci sente raramente, diciamo. Sì, sì. Sì, crematistica è un termine che è introdotto già dai filosofi greci, in particolare da Aristotele nel suo trattato sulla politica, dove distingue la o-economia, cioè l'arte di saper gestire insomma l'economia domestica, il patrimonio, le risorse, è la crematistica da tacremata, che significa appunto le ricchezze, e che è la capacità, in qualche modo l'arte di saper creare ricchezza, e questo è anche importante, c'è una ricchezza naturale che attraverso il lavoro l'uomo può creare e che è una ricchezza sacrosanta e legittima, quindi quando è creata attraverso le competenze, la capacità, l'applicazione del lavoro, la dedizione, la creazione anche di strumenti che possano migliorare il benessere della comunità, degli altri, quindi la crematistica è quella parte, chiamiamola anche scientifica, della capacità di creare ricchezza, la quale deve sempre avere un legame con la capacità di creare ricchezza attraverso il lavoro, attraverso le competenze, attraverso l'applicazione dell'ingegno che l'uomo fa alla natura, non solo nel creare degli strumenti, perché l'uomo può applicare il suo ingegno profondo alla natura per creare strumenti che creano danno agli altri, cioè si può studiare l'atomo fino a scoprirne la sua bellezza, la sua ricchezza, ma non è necessario crearne una bomba atomica, per dire adesso, per stare, quindi non ogni competenza e non ogni capacità tecnica l'uomo può usarla, come dire, per un fine che sia un fine in qualche modo distruttivo, deleterio per gli altri, ma che sia sempre di edificazione per il bene materiale e spirituale dell'altro e della comunità, quindi la crematistica. Ecco, mi si è permesso di ricordare anche un altro piccolo dettaglio che troviamo anche in San Tommaso, quando nell'acquestio 78 della seconda seconda, dove tratta appunto all'interno del bellissimo trattato sulla giustizia, di giustizia e diure, lì San Tommaso ricorda anche questo per dire anche la modernità di un approccio all'economia che non è chiuso semplicemente in una condanna dell'usura, punto e basta. E lì San Tommaso dice, è chiaro che il prestito in sé del denaro, quindi il mutuo in sé, quando io trasferisco la proprietà del mio bene all'altro, quello non richiede alcun interesse, perché altrimenti io sto usando due volte quel bene, trasferisco la proprietà e lo uso in qualche modo per fare, per guadagnare su quel bene, quel bene richiama solo la sua restituzione. Punto, un date, l'ilde indesperante del capitolo 6 di San Luca, eccetera. Ma dice San Tommaso, ci sono altri investimenti anche di un capitale monetario, quando per esempio ovviamente lui usa immagini del suo periodo, della produzione economica di quel periodo, quando dice io posso, senza trasferire la proprietà, fare un investimento di mio capitale monetario, per esempio con un mercante che parte verso l'Oriente per acquistare stoffe o prodotti che non esistono nel mio paese, che possono migliorare o rendere, essere utili anche all'arte, all'artigianato, e compartecipo con quella mia somma a un lavoro di un mercante di cui poi potrò subire o dei guadagni o anche delle perdite. Quindi questo per dire che la condanna dell'usura non significa che non ci sia la possibilità, chiarendo nei confini, di compartecipare. Ecco, di tutto questo di per sé dovrebbe farsi mediatrice la banca se torna a fare o a distinguere il credito all'impresa dalla speculazione finanziaria. Certo, certo. Infatti riprendendo sempre San Tommaso d'Aquino, mi sembra che lui proprio parlasse di crematistica naturale, cioè quella, come ha detto lei, che è in funzione dell'economia, quello è sussidiaria diciamo, sussidiaria all'economia. Ecco, e questa crematistica naturale mi sembrava che Tommaso indicasse in particolar modo l'importanza della finalità, no? Cioè che la finalità, non soltanto che il commercio chiaramente sia lecito, ma ci risoramentava proprio il vero fine, qual è il vero fine, perché è tutto orientato chiaramente, come dicevamo all'inizio, sulla dignità della persona umana. Ecco, e quindi anche il fine, in prospettiva cristiana è anche la salvezza dell'anima, oltre che la salvezza diciamo in questa vita, in questa vita di mitosa, di quello che può essere i suoi beni di questa vita, soprattutto i beni spirituali. Ecco, sulla finalità si può ancora suggerire qualche orientamento economico. Sì. Beh, credo si possa ribadire come la finalità della giustizia nell'ambito dell'economia, quindi sia nella dimensione del lavoro che nell'uso dei beni e nell'uso del denaro, quindi il giusto, il giusto salario, il giusto profitto, il giusto uso del credito, sono tutti finalizzati a quella giustizia che l'uomo è chiamato a praticare e che è il fondamento poi della carità. Infatti, come ben sappiamo, Sant'Omaso ci ricorda che è la carità la radice di ogni virtù, così come la superbia lo è del vizio. Sant'Omaso ricorda anche che la superbia, in quanto radice del vizio, di ogni vizio, ha la parte materiale proprio nella avarizia, che non è soltanto il trattenere i beni, ma anche la cupidigia di guadagno. Quindi la finalità che c'è nell'agire economico personale, quindi qui stiamo parlando ognuno nella sua vita, ognuno di noi agisce economicamente, e quindi la finalità dei beni è sempre quello di essere uno strumento, un mezzo a servizio della virtù, perché il fine più alto, come lei ha ben ricordato, per l'uomo è la beatitudine eterna. Quindi la beatitudine eterna, quali sono i beni che aiutano a conseguire la beatitudine eterna? Beh, in una serie di mezzi, Sant'Omaso stesso colloca l'uso dei mezzi materiali, l'uso quindi anche dei beni, pur necessaria una dignitosa vita umana, non al primo posto ovviamente, al primo posto ci sono i beni spirituali, i beni dell'anima, alla virtù, la pratica della carità in tutte le sue dimensioni, della giustizia e quindi l'uso dei beni che deve essere inserito dentro le finalità più alte e più nobili dell'uomo. Certo, vorrei fare una domanda sui monti di pietà, che lei ne parla nel suo seggio, perché si scapita così quando magari si va ancora adesso a visitare qualche città nel suo bordo medievale, di vedere all'interno magari di qualche portico, come può capitare, è capitato non c'è mai, di vedere proprio un monte di pietà. Ecco, se può spiegare un attimo, come mai, dove sono sorti e chi li ha guidato insomma la formazione di questi monti di pietà. Sì, proprio nei giorni scorsi ho avuto la gioia di visitare Feltre, ero ospite a Belluno del professor Trabucco e ho avuto grazie a lui anche la possibilità di visitare Feltre e di entrare nella chiesa dove c'è la veste di Bernardino da Feltre, il beato Bernardino da Feltre, che fu nel 1400 tra coloro che ebbero la felice intuizione, seguendo le omelie e gli insegnamenti di San Bernardino da Siena, di creare questo strumento a servizio soprattutto delle classi più povere, delle classi sociali che avevano bisogno anche di un piccolo credito in funzione della loro piccola attività produttiva. Quindi non era un istituto nato per fare un credito al consumo, come diremo oggi, ma per favorire e sostenere chi doveva affrontare un'annata di lavoro nei campi e quindi il monte di pietà che è una felice intuizione del pensiero francescano dei tratti minori nel 1400 che a partire dal centro nord dell'Italia si diffonde poi anche nel resto dell'Italia e dell'Europa, prevalentemente del Mediterraneo, ed è un'intuizione che è durata diversi secoli finché anche lì con delle trasformazioni dovute anche a sacerdoti cattolici sono diventate casse rurali insomma a servizio sempre del credito, alle attività produttive familiari, alle aziende a condizione familiare. Ecco questa felice intuizione voleva in qualche modo proteggere i piccoli lavoratori dagli usurai e da coloro che prestavano il denaro, spesso anche dei banchi cittadini, con degli interessi esorbitanti. La felice intuizione dei monti di pietà portò anche vivacissime discussioni anche tra i teologi morali, per esempio se il monte poteva chiedere anche così che non un interesse sul prestito, perché anche qui sempre i termini, come lei ha ben citato anche la VIX per venite, chiarisce l'importanza di distinguere, quindi non è un prestito che richiama anche un piccolo interesse, ma è un intervento a sostegno delle attività del monte e arriverà addirittura un concilio illateranense quinto a normare e a chiudere una discussione tra i teologi domenicani, agostiniani e francescani sul fatto se dal prestito ricevuto dal monte di pietà si dovesse dare un qualche interesse. Nessun interesse, ma c'è un contributo che viene dato al funzionamento dell'attività del monte, però con un'istituzione sociale che ebbe una grande rilevanza e produttività. Un altro tema che lei ha ricordato, adesso qui siamo sull'ultima domanda, poi lasceremo anche il secondo ospite, lei ha ricordato il distributismo, in particolare, prima abbiamo parlato dei minori francescani, in questo caso con il distributismo parliamo dei dominicani che lei ha ricordato padre Vincent McNabb, anche lui c'è un processo di beatificazione in corso. Ecco, se vuoi tratteggiare così brevemente che cosa è stata questa opera di McNabb e del distributismo? Sì, l'opera distributista ha un'attualità che è da riscoprire, soprattutto in questi tempi, la parola distributismo forse non aiuta molto come concetto in sé, però alla radice di questo termine vi è uno sviluppo della riflessione che parte da parte di alcuni scrittori cattolici, penso a Chesterton, Bellocchi, McNabb, i quali tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento tentarono di attualizzare la ricca enciclica Renovarum parlando proprio e cogliendo come punto centrale dell'enciclica il discorso sulla proprietà privata e sul fatto che nel tipo, nella struttura dell'economia moderna è fondamentale chiarire il fine della proprietà privata e come va salvaguardata e qual è la sua finalità personale e sociale. E quindi il distributismo richiama questa equa distribuzione della proprietà in funzione della vita virtuosa del singolo dentro la comunità, dentro la società. La Chiesa e la Terra, che è l'opera principale del dominicano Vincent McNabb, che pur essendo scritta nei primi anni venti del Novecento, quindi a un secolo di distanza, ha un'attualità bellissima e quindi la consiglio proprio anche come lettura spirituale in qualche modo, oltre che è anche una serie di provocazioni sulla realtà sociale, economica e politica, proprio perché ci dà uno spaccato anche di quelli che sono i rischi di una certa mentalità attuale, di un certo modo di percepire l'uso e il rapporto con i beni e quali sono invece le virtù da riacquisire e riportare anche al centro della società, perché oggi c'è molto bisogno di riportare al centro della vita comunitaria anche le vere virtù sociali, visto che è un'epoca in cui ci viene detto sempre di più di chiuderci nel privato e ci viene trasmessa quella che Benedetto XVI chiamava anche una necrocultura, che ci parla solo in qualche modo di morte, anche in economia, quindi a volte certi concetti racchiudono in sé anche un allontanamento dell'uomo dalla virtù, quindi dal lavoro, dalla produzione, dallo scambio e la proprietà privata che è importantissima e che ha il suo fine principale proprio nello scambio gratuito, nella liberalità, perché uno può fare scambio gratuito, cioè può fare un dono solo di ciò di cui è proprietario ovviamente, perché è facile fare un dono di ciò che è proprietà altrui o dello Stato o di un altro ente religioso per esempio, quindi ecco il distributismo è davvero una filosofia, è una riflessione teologica, chiamiamola pure così, sulla realtà economica e sociale che oggi è molto attuale ed è da riscoprire a mio avviso e da promuovere. Ecco, io davvero rimando alla lettura del bollettino, le dieci parole chiave in economia e anche del suo saggio preziosissimo che ovviamente abbiamo solo potuto così accennare, ecco, quello che è importante comunque è cogliere che la Chiesa ha sempre condannato d'usura nel senso di sostituzione all'economia, quindi alla centralità del lavoro della persona umana, ecco. E questo si è non solo se limitata a condannare, ma come ne abbiamo appena spiegato, ha anche fatto delle proposte, quella distributista, ecco, abbiamo parlato del dominicano, McEnard e di altri autori di quel periodo, e quella dei Monti di Pietà del Francescano, ecco, vedete la ricchezza della Chiesa che non solo denuncia, ma anche sostiene, sostiene e anche con delle patiche, se vogliamo, ecco, questo è importante, ecco, magari avremo modo di parlarne durante l'intervallo, la pausa. Intanto la ringrazio Don Roberto, grazie ancora della sua collaborazione di questo tema affrontato in modo così approfondito. Ecco, rimanga pure in linea che poi ci sarà modo di rispondere alle domande. Adesso presento il nostro secondo gratuito ospite, Maurizio Milano, buonasera. Buonasera, un saluto agli ascoltatori. Maurizio Milano, analista finanziario, pubblicista, collaboratore dell'osservatorio, ecco, ha trattato sul tema del mercato e dello Stato. Ecco, io vi farei subito inizialmente, seguendo anche proprio il suo saggio, una distinzione, come lei ha annunciato qui all'inizio del saggio, tra società e Stato. Sì, direi che questo è proprio l'inquadramento necessario per capire i termini. Nel senso che è importante capire come si forma la vita sociale a partire dalla persona e dalla famiglia. Possiamo fare un'immagine, ecco, per aiutare anche gli ascoltatori. Immaginiamo di essere davanti a uno stagno, di tirare una pietra, la pietra cade, si forma un primo cerchio e da questo cerchio se ne formano altri, sempre più larghi e sempre più tenui. Questo può dare un'immagine di quello che è la vita sociale a partire dalla persona e dalla famiglia che poi si integrano con altre famiglie nella realtà locale, nella realtà professionale e con tutte queste relazioni, sempre più ovviamente tenue man mano che ci si allontana dal proprio nucleo familiare, si dà origine a una vita sociale. Lo Stato è solamente l'ultimo stadio e quando ci dà una forma politica a una realtà però preesistente. Quindi la società non nasce dallo Stato, non nasce dall'alto verso il basso, ma nasce dal basso verso l'alto, cioè dalla vita personale e familiare, dalla vita comunitaria che poi alla fine dà anche origine allo Stato. Se pensiamo a quella priorità della persona e della famiglia non è solo di tipo cronologico, ma è proprio metafisico, cioè legato all'essere. Noi potremmo avere in tesi anche una famiglia senza una società o una società senza uno Stato, ma non potremmo mai avere uno Stato senza una società o una società senza famiglia e senza persone. Questa premessa serve perché se questo è vero ed è un'esperienza comune in tutte le culture, nella storia, vuol dire che ci sono dei diritti che spettano la persona alla famiglia che sono di origine naturale e che lo Stato deve semplicemente riconoscere e non può comprimere, può eventualmente normarli perché ogni epoca, ogni struttura economica e politica ha le sue caratteristiche, però certi principi, certi diritti di tipo naturale competono alla persona, alla famiglia da un punto di vista di natura e questa è una precisazione importante perché a partire almeno dalla rivoluzione francese siamo abituati a stati che hanno invaso sempre di più le rispettive società, hanno iniziato ad assorbire funzioni e risorse, pensiamo alla funzione educativa, alla funzione anche agli ospedali, della funzione assistenziale che era sempre stata fatta dalla chiesa, da associazioni di volontariato, un po' per volta gli stati moderni hanno assorbito tutte le funzioni e ovviamente hanno aumentato la pressione fiscale a livelli veramente elevatissimi, facendo così hanno svuotato però la società delle proprie caratteristiche, l'hanno un pochino atrofizzata, hanno in qualche modo reso le famiglie e le persone dipendenti dall'intervento statale e questo apre tutte una serie di prospettive molto preoccupanti. Una di queste, lei accennava la rivoluzione francese, proprio l'affermarsi di uno stato rivoluzionario e se vogliamo anche totalitario e nello stesso tempo poi che sembrerebbe l'opposto ma che in realtà sussegue anche legittimamente lo stato assistenziale, qui lei appunto accennava, laddove c'è sempre l'atrofugiazione del corpo sociale, la sua tramentazione, la sua irrilevanza. Quindi d'accordissimo su quanto lei ha detto e soprattutto sulla fondazione metafisica di cui ha parlato, la priorità dell'essere. Invece tornando proprio al tema del mercato, lei ha detto che tra le varie istituzioni sociali compare il mercato, spesso magari quando si sente mercato uno pensa al mercantilismo oppure la licentà di fare un po' quello che si vuole, che si vuole dare un po' un'impostazione sul concetto del mercato. Sì, questo è un punto molto importante perché purtroppo si fa un po' confusione, nel senso che è esperienza comune che i sistemi economici contemporanei non stiano funzionando, stiano funzionando molto male perché si crea concentrazione di ricchezza, perché c'è eccesso di regolamentazione, tassazione molto alta e così via. E questo è vero, ma tutto ciò non è conseguenza di un'economia troppo libera, ma è conseguenza di un sistema che in inglese si chiama chronic capitalism, cioè capitalismo clientelare dove i grandi gruppi privati, industriali e finanziari sono in qualche modo collusi col potere politico e alla fine se la cantano e se la suonano. Pensiamo agli Stati Uniti, i vari segretari del Tesoro, i vari responsabili politici spesso hanno un passato nelle grandi banche d'affari, poi magari ci sono le porte, le politiche sono le porte girevoli, passano dalle grandi imprese a funzioni politiche e poi tornano le grandi imprese. Questo è vero ed è un grosso problema, ma non è l'esempio di un'economia libera, anzi è il suo opposto. L'economia libera presuppone che ci sia un ruolo dello Stato molto più leggero, soprattutto lo Stato non deve giocare con una delle squadre in campo, dovrebbe semplicemente garantire che ci sia un campo piano, cioè delle regole di gioco valide per tutte e poi la capacità imprenditoriale, la sagaccia delle persone in un mercato libero dovrebbe contribuire alla creazione della ricchezza, ad aumentare la produttività e quindi anche la remunerazione del lavoro, senza coercizione e senza falsificare le regole. Purtroppo e soprattutto direi negli ultimi 25-30 anni abbiamo assistito a Stati che si sono legati sempre di più al potere economico e finanziario e l'uso anche del denaro, se ne accennava prima, le banche centrali e il sistema delle banche commerciali a riserva frazionaria hanno innescato un processo di finanziarizzazione dell'economia che porta dinamiche inflazionistiche a danno soprattutto dei piccoli e di chiare edifici come salario stipendico, però questo non è il libero mercato ma ne è la sua falsificazione, non è un eccesso di libertà ma è proprio la collusione, il capitalismo clientelare che è il grande male ma purtroppo non si denuncia mai la vera causa e si dà la colpa a un eccesso di libertà che sinceramente non c'è, perché se qualcuno di noi ha provato a ristrutturare casa anche solo o avere una piccola impresa si rende conto che non c'è un eccesso di libertà, anzi è difficilissimo fare impresa e non solo in Italia ma è nella maggior parte dei paesi moderni oramai. Ecco, passando ora nei compiti propri dello Stato, abbiamo prima denunciato i massimalismi, l'assistenzialismo da una parte, la pervasività dell'intervento statuale dall'altra, lei cita nei due documenti, la quadragesimo anno di Papa Piondicesimo e la centesimus annus di San Giovanni Paolo II, che ci possono aiutare a comprendere quali siano i compiti propri dello Stato, se vuole indicarci qualcosa in merito. Sì, proprio partendo dal quadragesimo anno del 1931 è interessante perché Papa Piondicesimo scrive quando in Europa iniziano a esserci i vari stati totalitari, dal comunismo in Russia al fascismo in Italia e poi il nazismo poco dopo arriverà in Germania, quindi Papa Piondicesimo ha proprio messo in evidenza il dramma dello Stato moderno che va ad asfissiare la società civile e lui ha spiegato per la prima volta in modo chiaro, ma in realtà è un principio che è già implicito nella concezione cristiana, il cosiddetto principio di subsidiarietà, richiamando l'immagine con cui abbiamo iniziato, cioè quella della pietra nello stagno che si allarga per cerchi concentrici, se questo è il modo in cui si forma la società, allora ogni intervento di aiuto deve essere di tipo sussidiario, cioè una realtà di ordine superiore può intervenire per aiutare una realtà di ordine inferiore, ma non per sostituirsi ad essa, quindi in modo sussidiario, in modo di aiuto temporaneo, ma con l'obiettivo di far sì che la realtà di ordine inferiore si rimetta in cesto il più in fretta possibile, quindi come lo Stato non deve invadere la regione, la regione non deve invadere la provincia, lo possiamo applicare a tutti i livelli. Il principio di sussidiarietà è stato poi richiamato da San Giovanni Paolo II nel 1991, nel centesimo sanno, dove fa una condanna molto chiara dello Stato assistenziale, dicendo sostanzialmente che il non rispetto del principio di sussidiarietà ha fatto sì che lo Stato assistenziale, per una inadeguata comprensione proprio dei compiti dello Stato in ordine al bene comune, ha iniziato a invadere la società fino ad atrofizzarla, quindi qual è la via giusta? La via giusta sarebbe, c'è un motto anche nella dottrina sociale della Chiesa, tanta libertà quanto è possibile, tanto Stato quanto è necessario, lo Stato è necessario soprattutto in sistemi economici complessi come quelli moderni, ma deve avere un ruolo di definizione, di aiuto del bene comune, ma non deve pretendersi di sostituirsi alla società, alle imprese, alle famiglie, alle persone, perché facendo così si crea proprio quella alleanza malsana tra il grande potere politico, il grande potere economico e finanziario che alla fine ha come unico risultato quello di portare una concentrazione della ricchezza in pochi e a danneggiare i piccoli che alla fine perdono voce in capitolo, perdono libertà, perdono autonomia e direi che è l'esperienza degli ultimi anni molto evidente. Ecco, mi ha citato la sussidiarietà, chiaramente facendola comprendere anche la luce del Ministero della Chiesa, lei però ha accennato anche in questo suo saggio anche a altri principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, se vuole accennarli in merito proprio a quello che lei chiama la ragione d'essere rapporto equo giusto tra società, Stato e mercato. Sì, diciamo che i tre principi chiavi della dottrina sociale della Chiesa sono la solidarietà, la sussidiarietà e il bene comune e come sempre con le parole bisogna intendersi, se no si rischia di andare fuori strada. Della sussidiarietà ne abbiamo parlato, la sussidiarietà è proprio la conseguenza della visione antropologica e sociologica che abbiamo descritto di una società che parte dalla persona e dalla famiglia dal basso verso l'alto. Cos'è la solidarietà e che cos'è il bene comune? La solidarietà è il fatto che tutte le realtà che compongono una società non sono sconnesse una dall'altra, ma sono collegate e sono solidali, questo vuol dire che non si può ragionare in modo individualistico, anche perché l'individualismo alla fine apre la strada al collettivismo, è un po' quello che è successo con l'ideologia liberale che pretendeva di tagliare i vincoli e rendere la persona assolutamente libera, ma non si era reso conto che molte non erano catene, ma erano cordone umbericali, quindi un certo individualismo alla fine degenera nel collettivismo, quindi proprio perché vogliamo bene alla persona, alla famiglia, alle varie realtà sociali non possiamo avere una visione individualista e quindi di qua il principio di solidarietà. Poi il bene comune è la ragione d'essere dello Stato, ma il bene comune non è un bene disegnato a tavolino, è proprio creare le condizioni perché le persone, la famiglia e la società dal basso verso l'alto possono esprimersi nel modo migliore, con la massima libertà possibile e quindi è un quadro giuridico istituzionale al cui interno la società può fiorire, non è l'implementazione di una pianificazione dall'alto decisa da un qualche tipo di comitato tecnico che ha tutte le informazioni e centra tutte le decisioni, questa è un po' purtroppo la visione distorta del bene comune che però è ribaltata, il bene comune parte dal basso verso l'alto perché nella visione cristiana, nell'antropologia e sociologia cristiana tutto parte dal basso e arriva in alto ma non nasce mai da un ente centrale pianificatore. Certo, parlando appunto di questa ragione d'essere, quindi società, Stato e mercato, qui abbiamo quasi la penultima domanda, perché poi esauriamo il tempo, lei parla anche di società articolata, di Stato ordinato e di mercato davvero libero, sul mercato abbiamo un po' accennato, perché è facile dire che il mercato è libero, però in realtà poi non lo è veramente, il merito invece a questa società articolata di cui parla tra lo Stato è ordinato, che cosa può suggerire? Ma ecco qui, questo è un punto importante, perché a volte si cade un po' nell'illusione di credere che se ci fosse un buon governo le cose vanno poste automaticamente, ma purtroppo non funziona così, come dicevamo tutto nasce dal basso verso l'alto, questo significa che una società in cui le persone si sono allontanate da Dio, le famiglie sono destrutturate, la società è atrofizzata, ecco una società di questo tipo che è quella che stiamo vivendo, non è funzionale neppure da un punto di vista economico, perché anche per avere una vita economica sana e florida abbiamo bisogno delle virtù morali, la laboriosità, il risparmio, la fedeltà alla parola data, la capacità di fare bene un certo lavoro, quindi come sempre si nota che ci sono delle realtà pre-politiche se vogliamo, quindi delle virtù che hanno anche alla fine un valore economico e questo non deve stupire perché l'uomo è un'unità organica, quindi il fatto che la perdita della virtù danneggi anche il sistema economico e poi il sistema politico secondo me è una conferma di un ordine che non può essere danneggiato impunemente, quindi non potremo mai arrivare ad avere un buono stato se non c'è una buona società e una buona società è fatta da buone famiglie e quindi il punto di partenza è la conversione individuale, non si può dire adesso ci diamo tre voline e facciamo un bel piano, no, lo dobbiamo fare è convertire noi e la nostra famiglia, non è sufficiente ma è l'unica possibilità operativa che abbiamo. Certo, adesso le farei proprio un'ultima domanda, ovviamente rimandando alla lettura ampia di quello che è stato il suo saggio su un fatto stato nella rivista dell'Osservatorio Cardinal Lantua, un po' provocatoria diciamo così, oggi si sente parlare di sviluppo sostenibile, l'agenda 2030, però nello stesso tempo la Chiesa invece parla di sviluppo umano integrale, so che sono concetti che ci vorrebbero trasmissioni a parte, però accennando che la pericolosità di questo sviluppo sostenibile pronunciato dall'agenda ONU 2030 invece perché bisogna proprio partire dallo sviluppo umano integrale, come ad esempio nel magistero indicato da Benedetto XVI. Sì, il termine di sostenibilità ormai è diventato invasivo, lo vediamo anche, viene utilizzato anche nelle scuole un po' dappertutto e purtroppo è figlio di una mentalità che considera l'essere umano come un problema, quindi sono i vecchi miti neomaltusiani che vedono un eccesso della popolazione come la grande minaccia per il pianeta, ricordo che tutte le previsioni fatte negli ultimi 50 anni si sono rivelate assolutamente false perché la popolazione è aumentata e la povertà si è ridotta, quindi non si sono create le carestie che venivano paventate e ultimamente purtroppo la moda è quella di vedere la grande emergenza nell'emissione di CO2 e ahimè noi persone respirando emettiamo CO2, quindi quando io sento parlare di sostenibilità ho sempre un po' la paura che chi usa questo termine, che ovviamente l'aggettivo in sé non è che sia brutto, ma sia portatore di una mentalità che vede l'essere umano in fondo un po' come il problema, mentre invece anche da un punto di vista economico molto semplice se continua il collasso demografico in atto noi avremo dei problemi sulla tenuta del sistema pensionistico e sanitario perché avremo più persone anziane che quindi hanno bisogno di maggiore assistenza e ovviamente saranno fruttori di pensione su una popolazione in età lavorativa sempre più contratta a caso della denatalità e questo creerà dei grossi problemi sì di sostenibilità, quindi questo fa capire che lo sviluppo umano non deve essere sostenibile, deve essere integrale, cioè deve mettere al centro la persona e a quel punto sarà anche sostenibile, mentre invece muovendo da una visione di tipo ideologico che alla fine anche se non lo dicono, ma è sempre un po' figlia di un pensiero antiumano, si rischia di arrivare poi a un certo punto in cui avremo a che fare con problemi di insostenibilità dei sistemi pensionistici e sanitarie. Quindi lo sviluppo umano integrale impone al centro come anche i principi della dottrina sociale della Chiesa che è la dignità della persona umana, ma anche direi le relazioni, le sue relazioni, le relazioni con Dio, le relazioni con il prossimo e anche le relazioni con la natura e con se stesso. Quindi io credo anche su questo sviluppo umano integrale ci sia ancora molto molto da approfondire, la Chiesa come sempre non è in ritardo nei tempi ma in anticipo, ecco paradossalmente, rispetto magari a visioni più laiciste che sembrano più attuali, in realtà invece sono più vecchie. La Chiesa è sempre in anticipo, quindi quando ci richiama questo sviluppo umano integrale, ovviamente se d'accordo con me o se vuole aggiungere qualcosa, si richiama sicuramente alla ricerca e alla dignità della persona, ma anche al sanare proprio anche le stesse relazioni, in anticipo con Dio, laddove magari c'è una relazione fragile, ecco, quindi per l'uomo, ecco, tanto più è un uomo, tanto più riconosce che nella sua vita c'è la presenza di Dio, no? E quindi le relazioni poi di conseguenza si mettono in posto. Ecco, se vuole proprio un'ultima battuta finale, dopo cediamo per una pausa la regia, per una pausa musicale. Sì, proprio in poche parole, diciamo che l'economia spesso viene vista come un'essenza stratta fratta di numeri, di grafici, però questa è una deformazione moderna, l'economia in realtà parla dell'azione umana, l'economia descrive quello che fa l'essere umano in relazione al soddisfacimento dei bisogni, quindi dal lavoro allo scambio, tutta l'attività produttiva. È chiaro che se il soggetto dell'attività economica è l'uomo e l'uomo è danneggiato perché ha perso una visione trascendente, perché ha perso le virtù, è chiaro che anche il suo lavoro e anche le sue relazioni economiche alla fine saranno danneggiate. E non c'è nessun legislatore, nessuna direttiva che potrà sanare una mancanza di questo tipo. Quindi di nuovo la conversione individuale delle persone e delle famiglie è anche un bene di tipo economico, anche se sembra strano fare un'affermazione di questo tipo. Ecco, io cedo adesso la parola alla regia per una breve paese musicale nella quale raccogliamo le vostre osservazioni e le vostre domeniche. Grazie. Sì, pronto? 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 Sì? Sono io? Allora mi chiamo Grazia, abito in Pellivicenza, il Veneto. Sì? Sono d'accordo con tutto quello che avete detto, quindi non è tanto, ma la domanda, c'è una doppia domanda, uno riguarda il sistema abitativo e l'altro riguarda la donna, e cioè il discorso famiglia, finché si dice le donne non lavorano abbastanza, devono lavorare fuori casa e facciamo i nidi, è un disastro totale per il bimbo e per la madre e per la trasmissione di quello che è il modo di sentire, cioè quello che è il senso della persona, cioè la vita familiare non esiste più perché tu il bimbo lo sbatti un po' di qua, un po' di là è semplicemente un essere che serve allo Stato e questo è una cosa abbastanza importante e molto grave dal mio punto di vista. L'altra cosa altrettanto importante, mi pare, è il discorso del sistema abitativo. Quando tu chiami le Archistar a fare gli interventi urbanistici siamo nel giastro perché pensano di fare le cose belle, le cose da mostrare a Hollywood, mentre invece si tratta di costruire le situazioni abitative e l'abitazione di una volta era di vicinato, di tradizione, di famiglie, di nonni che stavano vicini eccetera, adesso il lavoro ti porta di qua, cioè c'è una disgregazione sistematica e secondo me anche voluta, non è un fatto occasionale o accidentale, è programmata e io vorrei sentire un po' il vostro punto di vista, se c'è una riflessione, lasciamo perdere il discorso donna, ma sul sistema abitativo che secondo me è decisamente, come dire, disgregante. Disgregante, i nonni da una parte e poi dicono, assistiamo i nostri malati, i nostri vecchi o che so io, li piazzino in un pensionato, io ho quasi 80 anni e sto programmando il pensionato appunto. Non è bello, non è bello. Ecco. Signora, grazie, veramente io così la ringrazio perché invece ha affrontato due temi che sono estremamente importanti, ecco, dal sistema abitativo che mi ha detto lei, qui nella famiglia dove non si vive più, le intergenerazioni come c'era una volta, la disgregazione, sono d'accordo. E la questione donna, che anche quella è una bella questione che lei ha sollevata, però sentiamo un po', direi, Maurizio Milano sulla questione anche della disgregazione della famiglia, di questo sistema abitativo che lei ha denunciato, io mi trovo d'accordo, sentiamo comunque anche i nostri relatori cosa hanno da dire. Ma sì, quello che dice la nostra gentile ascoltatrice è assolutamente corretto, purtroppo la famiglia viene disgregata anche in questo modo, quando la famiglia è lui e lei, è un bimbo, magari nella periferia di Milano, lontani dalle famiglie di origine, capite che diventa veramente molto molto difficile nella vita e la tendenza all'urbanizzazione purtroppo è sempre più accentuata. Io vivo in una cittadina di provincia, sinceramente non riuscirei neanche a concepire di vivere in una grande città, perché lì purtroppo si condanna all'isolamento per definizione, per i prezzi dalla distanza dalle famiglie di origine. La famiglia è sempre stato un qualcosa di allargato, anche il discorso dell'aiuto per i bambini piccoli e di nuovo, è chiaro che se sono lui e lei e il bimbo a Milano, questo aiuto non c'è, se si è in una realtà locale, piccolina, c'è sempre la possibilità di avere un pochino di supporto. Quindi credo proprio che la città moderna come organizzata non sia funzionale alla famiglia, quindi personalmente non riuscirei veramente a pensare di andarci a vivere. Cosa si può fare? Appunto cercare di una giovane coppia, secondo me, tanto più che adesso ci sono anche le prospettive di lavoro da casa, il cosiddetto smart working, quindi è più facile ricostruire un tessuto di vita familiare e sociale in una piccola cittadina. Poi, lo so, è sempre facile dirlo, ma non mi viene in mente nient'altro. Ecco, sentirei, non so, anche se non è l'argomento proprio specifico dell'usura, però mi sembra che le sollecitazioni di grazia siano davvero interessanti, anche sulla questione donna effettivamente, non so se Don Roberto vuole rispondere in quasi… Ma io ringrazio, appunto grazia perché tira fuori un argomento che sarebbe importantissimo anche da approfondire, quindi tutti i temi che poi riguardano anche la dottrina sociale della Chiesa hanno una ricchezza di contenuti su cui si può riflettere. Credo che il tema dell'abitazione, l'ho già introdotto molto bene il dottor Milano, è anche strettamente legato al discorso sulla famiglia e al discorso sulla proprietà privata, quindi tutte le trasformazioni che ci sono oggi, proviamo a pensare anche al cosiddetto green e tutte le politiche che ci sono dietro, è stata citata prima anche l'emergenza della CO2, sono tutte spie, a mio avviso, di progetti molto più grandi di noi ma che vanno in una linea ben determinata che a mio avviso non sono a vantaggio di tutti i principi sani che adesso sono stati nominati anche dall'ascoltatrice, cioè di un abitare sano, una casa dignitosa, un vicinato, la valorizzazione delle zone rurali. Io credo che su questo la Chiesa avrebbe qualcosa in più da fare sulla valorizzazione per esempio delle zone rurali, io per esempio penso anche alla mia Sardegna che è spopolata ma il fenomeno dell'inurbamento continua e quindi anche i piccoli paesi anche con storie dignitose che si svuotano, cioè la Chiesa a mio avviso potrebbe tentare perché ha un bagaglio di principi e di tradizione, di storia e di cultura anche civile che potrebbe provare qualcosa di più anche con creatività nell'ambito proprio della casa. E non trascuriamo anche che uno degli slogan che viene inculcato ai giovani anche abbastanza spesso è che il futuro sarà un futuro in cui non possiederai nulla e sarai felice, cioè prenderai tutto a noleggio, tutto in affitto, non ti affezionerai mai a una casa, a una dimora che rappresenta la tua vita, la vita della tua famiglia, la tua storia personale, familiare perché è come se tutto dovesse essere sempre estremamente provvisorio. Ecco, certo che la provvisorietà è un principio che riguarda le cose materiali ma noi puntiamo anche a una stabilità che è la stabilità della famiglia, la stabilità economica, dei principi, della fede, della moralità. Quindi ecco, ci sono tantissimi temi e bellissimo il tema dell'abitare come è stato proposto. Davvero meriterebbe, la ringrazio ancora, davvero è stato interessante il suo intervento e ci sollecita magari per riprendere questi temi dell'abitazione e anche della questione della donna che sono assolutamente di rilievo. Ecco, poi io sono d'accordo con lei sul fatto che questa disgregazione è stata un po' brutta insomma, non è che venga all'improvviso così, è stata un po', come ha detto anche Don Roberto, è stata un po' questi progetti che vanno contro la proprietà privata, ecco ricordiamo che la proprietà privata è un diritto naturale e quindi va tutelata e così vengono da lontano. sentiamo un altro ascoltatore, ascoltatrice, pronto? Pronto? Sì, pronto. Ecco, sì, da dove chiama gentilmente? Io chiamo da Roma, mi chiamo Maria. Io volevo fare una piccola testimonianza sull'usura. Prego. Mi è capitato più di una volta, forse tre volte mi sembra, di aver prestato dei soldi, cioè mi sono offerta io di prestarli ad una persona che lavorava presso di me a ore nella mia casa e si accingeva questa persona a chiedere un prestito di 3.000 euro e io ho detto ma quanti poi ne devi restituire? Abbiamo fatto un po' il conto, ne avrebbe dovuto restituire 4.500. dicono guarda, te li presto io, così mi dirai 3.000 euro e mi dirai così con comodo quando tu ce li hai. E così questa persona ha accettato, mi ha ringraziato e così mi ha restituito poi i soldi fino all'ultimo euro. e volevo dire questo, si prova una grande gioia a poter risolvere, aiutare una persona a risolvere un piccolo problema così. Quindi ecco. Certo, 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 signora Maria, sì sì, ho fatto bene a dare questa testimonianza perché spesso appunto l'amicizia, le sane relazioni possono aiutare le persone in difficoltà anche economica, come lei ha fatto in sintonia tra l'altro con il Magistero della Chiesa, una visione cristiana. Quindi davvero una testimonianza molto bella che ci ha dato, interessante ecco, come possiamo farci prossimo e aiutare le persone che hanno difficoltà nei vicini, ecco. E' chiaramente una bella testimonianza, vorrei sentire in questo senso anche Don Roberto. Ringrazio anch'io perché è sempre bello sentire queste storie personali, provo a pensare come sarebbero le nostre comunità e la nostra società intera se questa fosse la normalità, cioè se questo tipo di relazioni, quindi di scambio economico, di uso del proprio risparmio anche del proprio denaro, se fosse questo ecco il principio che anima queste relazioni sociali che poi, questo è il giusto che crea amicizia, è l'essere giusti, il rispettare la finalità naturale dei beni, del denaro in questo caso che costruisce amicizia. Poi per carità ci sta anche che a volte dall'altra parte si possa incappare in una persona che o non restituisce tutto oppure non è irriconoscente. Ma questo fa parte poi di altri problemi, di altre questioni morali. Però è bello che ci sia il principio in un'epoca in cui purtroppo per diversi motivi, che sicuramente il dottor Minano ha spiegato e si spiega è molto meglio, il denaro è idolatrato, è diventato il centro, almeno nell'immaginario, nel pensare. Quindi è come se fosse un hero davanti al quale si può calpestare qualunque principio morale pur di guadagnarli in un modo, appunto non in un modo sano, in un modo buono, in un modo che mette in gioco la propria capacità produttiva e lavorativa, ma appunto cercando di entrare in una logica di un guadagno del denaro fine a se stesso o del denaro che produce a se stesso e quindi la logica in qualche modo non sana. Certo, non so se vuole aggiungere qualcosa Maurizio Milano. Ma l'ascoltatrice ha toccato un punto importante che è quello della liberalità. La liberalità è una delle virtù e direi che anche un'economia sana ha bisogno della virtù della liberalità. Questo è chiaro che poi non significa che non ci sia anche la necessità di avere poi degli istituti che si occupano stabilmente dell'erogazione dei prestiti, quindi ovviamente è dietro la rimunerazione. Però un'economia che non abbia al suo interno anche degli elementi di liberalità rischia alla fine effettivamente di inaridirsi e direi che anche a livello familiare una delle cose che abbiamo notato durante la crisi sanitaria è proprio uno dei fattori di tenuta della società italiana proprio è stata questa liberalità e questa solidarietà intergenerazionale che è una delle ricchezze dell'Italia finché c'è ancora un tessuto familiare. Immaginiamo se un domani saremmo ridotti a una società liquida di individui senza relazioni come si sta purtroppo delineando e che in quel caso diventerebbe davvero dura. Non so se abbiamo ancora, chiedo la regia, se per caso c'è ancora una chiamata. Sì, prego, prego. Sì, pronto? Pronto? Sì, io mi sento, posso parlare? Perfetto, ecco, lei sento che ha un accento credo toscano, giusto? Sì, buonasera, sono Massimo Dallivorno, ringrazio Dario Maria e anche voi relatori che finalmente si sente una voce sui valori e sui problemi reali e non sulle fantasticherie sulle costruzioni moderniste. Ecco, detto questo, i temi, gli spunti sono tanti. Vorrei soltanto dire questo e fare quindi anche una domanda. I miei genitori venivano da famiglie patriarcali, erano dieci fratelli, nove fratelli e una sorella, il mio babbo e sei tra fratelli e sorelle della mia mamma. Ognuno ha trovato negli anni 50 la sua strada, ha messo delle famiglie ordinate, delle famiglie che poi si sono volute bene negli anni, in particolare quella del mio babbo e quindi assistenza, solidarietà. Però poi i figlioli, chi è andato a sinistra, che è andato nell'ultrasinistra, chi anche oggi odia il sistema patriarcale. Quando invece le nostre tradici erano di questo tipo, i frutti sono stati estremamente positivi. Siamo immemori proprio delle nostre storie, delle nostre esperienze di vita. E oltre a questo rammarico, c'è anche un rammarico di tipo politico-sociale. Nessuno, nemmeno ormai a livello anche di chiesa, che spartorisce e propone delle soluzioni solidali, delle soluzioni veramente sociali, quali io ho sempre sostenuto perché l'ho sentita da qualche parte. La donna deve essere libera di scendere, sia essere mamma, sia essere donna in carriera. Però lo Stato dovrebbe sostenere quelle donne che vogliono fare la mamma, vogliono fare la casalinga, magari per i 15, 20, 25 anni che restano nella famiglia. È un po' lo stesso discorso anche dell'aborto. Le famiglie che non vogliono avere figli, che gli capita di averli non voluti, diamoli in affido, diamoli in adozione, oppure diamo a quelle famiglie numerose più sostegni statali. Ce ne ritroveremmo in benefici per le pensioni, contro le malattie della depressione, contro le fughe nella droga. Ma lo Stato e purtroppo un pochino tutti i politici si baloccano sul gender. Io sento, solo una volta, ho sentito, meno male, ancora una volta a Radio Maria, ma che gender è gender, ma che genere è genere. Ma parliamo di sesso, maschile e femminile. Ma cos'è questa storia del gender che uno deve essere liquido, eccetera? Voglio dire, e chiudo, scusate questo sfogo, persino nella Chiesa si dà per scontato che ci sia gender, che non si possa parlare di donne casalinghe, di mamme, per evitare l'indottrinamento LGBTQ+, o come si chiama invece di stare con i nonni, che invece o vi si applica l'eutanasia o si parcheggiano a spese altissime, quelli che chiamava il mio babbo i reusori, il terrore degli anziani, eccetera. Quindi manca una proposta cattolica e manca anche una proposta politica coerente. Anche i partiti conservatori arrivano fino a un certo punto e poi hanno paura di non essere più alla page, non essere più politicamente corretto, aborto no, però famiglia solidale sì, però, eccetera. Ma dovrebbe partire… Ecco, Massimo, chiedo scusa, dobbiamo sfumare perché siamo quasi in finale trasmissione, ecco proprio due battute da entrambi sulle provocazioni, ecco che ricordavo la famiglia patriarcale, a me così, perché suggeriva anche il concetto di autorità, ma sarebbero tutti temi che non ci vorrebbe tanto più tempo. Ecco, se volete proprio una battuta finale di chiusura, risposta oppure via sottolineare qualcosa dell'amico Massimo di Leveria e poi ti diamo. Proprio una battuta per ciascuno. Ecco, Don Roberto. Ah, sì. Pronto? Sì, sì. La famiglia patriarcale, ecco, lei che viene anche da una regione, insomma, dove un pochino … Io vengo da una regione dove per sé la tradizione è la famiglia matriarcale, ma questo non significa che i ruoli… cioè, sono concetti in cui la donna aveva la sua autorità all'interno della famiglia, ma che non significa che un'autorità che schiacciava quella del padre. Il padre aveva autorità fuori dalla casa su tutto ciò che riguardava, insomma, questo per dire ci sono delle variabili storiche, ma che rientrano, riportano sempre allo stesso concetto di quella autorità familiare che lei ha appena citato e che meriterebbe essere approfondita. Sì, brevemente, solo questo. Concordo con tutto quello che ha detto il nostro ascoltatore, Davi Borno, concordo davvero in tutto, Massimo, e ritengo che debbano maturare i tempi per una proposta politica di ispirazione cattolica che su tutti questi temi abbia unità e chiarezza, ma con una proposta seria, ben fatta. Poi capisco che i tempi sono molto difficili oggi all'interno anche del mondo politico, perché talmente ci sono delle forze che muovono verso altre direzioni, però se non torna la centralità della famiglia e della natalità, visto che la propaganda oggi porta i giovani alla benatalità, con tanti punti di vista, non ultimo anche il fatto che ogni nuovo nato produce molta CO2. Insomma, tra l'altro, chiudo, anche molti economisti seri dicono che la prima crescita economica sarebbe la crescita demografica. Ecco, una battuta anche da Maurizio Milano, poi chiudiamo con i soliti. Sì, sì, concordo anch'io, è vero che la famiglia è essenziale per la tenuta del sistema economico, ma direi ancora di più è essenziale per la libertà, perché un sistema che distrugge la famiglia, che riduce le persone a singoli, al singolo cittadino che si trova nudo di fronte al potere politico, beh, in quel caso lì perde ogni libertà. La famiglia è la prima società, quindi uno Stato che abbia davvero cuore alla tenuta del tessuto sociale dovrebbe considerare la famiglia come il primo valore da promuovere, da sostenere, a partire da un punto di vista culturale, non si tratta tanto di fare dell'assistenzialismo di basso profilo, si tratta di mettere veramente al centro la famiglia come soggetto economico e soggetto politico. Perfetto, io davvero ringrazio i nostri graditissimi ospiti, Don Roberto Caria, Maurizio Milano, invito a acquistare e leggere la rivista trimestrale dell'osservatorio Cardinal Vantuan dedicata all'economia, ultimo numero, ringrazio chiaramente la regia di Radio Maria, ecco che ci consente da una decina d'anni di fare queste programmazioni ogni terzo sabato del mese, ringrazio tutti gli ascoltatori che sono intervenuti, coloro anche che non ce l'hanno fatta di intervenire e a tutti auguro una buona notte e una buona domenica, arrivederci al prossimo terzo sabato del mese.